non è calcio con azioni adesso campo libero per la Vespina campo libero per la Vespina se ne va via la Vespina posizione urale per la Vespina la Vespina la Vespina la Vespina set pieno per la Vespina 1-4-2 5-1 manita con il set è tutto a casa Vespina dentro Bacca trema la terra col tacco geniale trema la terra grande azione Carlitos Bacca 1-0 Camper United Carlitos Bacca in the Fishman il pescatore la mente dentro a lui mamma mia trema la terra con il sacco filtrante mamma mia che azione perché non hai rigore non è possibile non è possibile il suo atto di fisico palla dentro palla ancora più dentro ancora più dentro che azione Luis Adriano è tripletta non convalidata ma per me lo è Luis Adriano Hartrick questo gol di vantaggio siamo entrando negli ultimi cinque minuti con un gol che divide le due spalle igna 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 dentro palla segnale palla ancora più dentro è la rete! è la rete! è la rete! la rete incredibile del pastore FC Kevin Doyle che azione con Zappacostino Zappacosta con Zappacostino Zappacosta super gol Kevin Doyle subito e Pastroni pareggiano Kevin Doyle 1-1 prova l'angolo Osè Maria Caia de Con ottimo pressing di Osè Maria c'è fuori Jack ah no è Osè Maria servito proprio da Jack OSE MARIA CAIA CALL SETEPIERO 2-0 Camper United e il titolo è sempre che nelle loro mani Osè Maria Aiaan OSE MARIA CAIA DE GON OSE MARIA CAIA DE GON dopo un grande scatto evansivo del re Diego Silva la porta su salta tre avversari serve Bacca e Bacca serve San Maria 1-0 finalmente San Maria Bacca e Bacca e Bacca 3-0 Bacca 10-4 Soprattutto con questi errori da parola del portiere hanno aumentato il battaglio hanno aumentato il battaglio grazie a tutti Bacca e Bacca Bacca e Bacca 3-0 Soprattutto con questi errori da parola del portiere a Bacca 3-0